E' morto mentre lavorava all'interno di un cantiere a Messina. Giacomo Marcimino, 53 anni, sarebbe stato colpito mentre manovrava degli oggetti pesanti, forse una pressa che stava per essere caricata su un tir. La tragedia questa mattina nel quartiere Maregrosso, poco distante dalla stazione ferroviaria della città dello Stretto. Al momento non si conosce ancora la dinamica dei fatti. L'incidente sarebbe avvenuto all'interno di un capannone poco distante dai binari del treno. In via San Cosimo hanno sede diverse ditte di falegnameria, alcuni laboratori per la lavorazione del ferro e un'autofficina per la riparazione dei camion. Trasportati in ospedale, i medici del Policlinico Gaetano Martino di Messina non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Addolorati i colleghi dei cantieri vicini che lo incrociavano ogni giorno, a casa una moglie e una figlia piccola. Sul luogo sono ancora in corso i rilievi della Polizia Scientifica. Per ricostruire quanto accaduto e far luce sulle eventuali irresponsabilità, la procura di Messina ha aperto un fascicolo.